Arriva il freddo e finalmente anche la neve alla Betone, riaccendendo le speranze di recuperare la compromessa stagione sciistica. Dall'alba di ieri i cannoni hanno sparato senza sosta neve artificiale su alcune piste del comprensorio, tra cui il Campo Scuola ad Abetone, su alcune piste della Val di Luce e alla Zeno 3, che porta all'impianto del Monte Gomito. Seppure in un contesto senza neve naturale sotto i 1800 metri, le temperature finalmente in media termica di gennaio hanno permesso almeno ad alcune piste di tingersi di bianco, nella speranza di utilizzare l'impianto e piste nel fine settimana. Ma mancano ancora giorni. In aiuto arriva anche una nevicata naturale, che potrebbe raggiungere l'Appennino tra stanotte e domani, sopra i 1200 metri di quota. La parola d'ordine rimane però la cautela, come suggerisce Gian Piero Danti, direttore della società Abetone Funivie. Trattandosi di temperature borderline, bisogna vedere giorno per giorno cosa succede. Cauto anche Rolando Galli, presidente SAF. Parlare di aperture è presto, commenta. Occorre aspettare ancora qualche giorno per vedere le temperature e come si comporteranno. Insomma, non rimane che incrociare le dita e attendere i bollettini degli esperti.